La signora famoso Iole risolve ogni problema di affari, salute ed amore, grazie alla grande e misteriosa forza benefica che è in lei. Forza che trasferisce in quest'unico talismano, a beneficio tuo e dei tuoi cari, allontanando per sempre tutte le forze negative che ti circondano. Sono vent'anni che faccio questo lavoro, ho aiutato tanta gente e si guiderò di aiutarne sempre di più. Sendo una forza dentro di me che neanche io so spiegare come, comunque Dio mi ha dato questo. Una semplice telefonata potrà dare alla tua vita nuova speranza e gioia.